Sapete quando capita a volte che uno youtuber inizia il video dicendo io questo video non lo volevo fare? Questo è uno di quei pochissimi e rarissimi casi in cui è vero, perché la maggior parte delle volte mentono. Questo contenuto io non avrei voluto farlo perché mai e poi mai avrei la voglia o il desiderio di ritrovarmi a parlare di una problematica pazzesca che è la seconda volta che mi capita di affrontare in questi quattro anni di attività su YouTube, specialmente nell'ultimo anno, è successo già l'anno scorso e si sta ripetendo. Voglio fare un video senza tagli parlandovi in maniera discorsiva. Cosa sta accadendo? I dati demografici del mio canale, di nuovo, sono alterati, il che vuol dire che sono stato sabotato. Ma Erinvor, ma che caso vuol dire che sei stato sabotato? Da sempre i dati demografici di Erinvor, Tolkien ed intorni, con piccolissime oscillazioni, si attestano intorno a un 95, 90-95% di spettatori di sesso maschile o che hanno dichiarato nel loro account il loro sesso, il loro genere, quello maschile, è un 5-10% che oscilla di sesso femminile. Sta succedendo che, per la seconda volta, come ho già detto, è successo l'anno scorso, i miei dati sono sballati, giacché negli ultimi 7 giorni ho un 100% di spettatori solo donne. E questo dato si riflette anche negli ultimi 28 giorni e nel frattempo che parlo vi faccio vedere anche i dati, gli insight, gli analytics del mio canale. Maggio, giugno e gli ultimi 7 giorni, di luglio chiaramente. Ora, il mio audience non è composto dal 100% di donne. È perché questo succede? Come mai? È un errore di YouTube? No, non è un errore di YouTube. Perché ho contattato l'assistenza, così come lo feci un anno fa, o forse anche qualcosa di meno all'incirca, e da parte loro non è stato riscontrato nessun dato di impostazione, di algoritmo, di che cazzo ne so, che sia sbagliato, alterato, cioè il canale è perfetto, cioè non ha problemi, non ci sono strike, non c'è niente. Capisci? Ad accompagnare ciò e a rendere il tutto ancora più sospettabile è il fatto che, sempre nei dati demografici del mio canale, laddove io ho un pubblico che va dai 25 ai 40 anni, di sesso maschile per la stragrande maggior parte, con qualche percentuale minore di giovani dai 18 ai 30, ora non so esattamente quali sono gli archi che sono considerati da YouTube, però vabbè, poi a schermo li sto facendo vedere evidentemente. Quindi dai 25 ai 35 ai 40 è il mio pubblico, la maggior parte delle persone che guardano i miei contenuti, 45 al massimo, e poi si ha una notevole diminuzione dai 45 in poi, dai 65 praticamente quasi zero, così come quasi zero o zero fino ai 18 anni, insomma il pubblico giovanissimo non è interessato ai miei contenuti, per cui abbiamo una predominanza di uomini dai 25 ai 40 anni. Ok? Questi sono i dati. Adesso invece i dati sono sballatissimi. Solo donne, 100%, ed è una cosa che sto notando nel canale già da un po', che si accompagna ad una diminuzione di views incredibile, adesso vi spiego questo che cosa comporta, e che sono sopra i 54 anni. Donne sopra i 54 anni, esclusivamente donne sopra i 54 anni, guardano i miei contenuti secondo i dati analytics recenti. E' un po' come dire che io sono guardato dalle zie. Ora, lungi da me rigettare questo tipo di audience, anzi, chiunque è assolutamente benvenuto, non c'è nessuna preferenza da parte mia, semplicemente guardando ai dati, vedo un'anomalia pazzesca. 100% di donne, 100% di donne sopra i 50 anni, 54 anni. E va da sé che è una roba problematica. Perché è problematica? Quando creo un contenuto, l'algoritmo più o meno conosce qual è il mio target di riferimento, e prova a mostrarlo, a spingerlo, all'interno di quelli che sono i valori che è storicamente, di recente, quelli recenti, lo storico dei valori recenti, l'algoritmo riconosce essere il mio pubblico. Quindi se il mio pubblico è predominantemente uomo dai 25-45, i nuovi video, l'algoritmo cercherà di spingerli verso quel tipo di pubblico, perché sa che quel tipo di pubblico guarda i miei video. Non li spingerà ai bambini, per esempio, perché sa che non è il mio pubblico. Ok, ci siamo. Se il mio dato demografico e anagrafico è donna sopra i 50 anni, 54 anni, perché succede che l'algoritmo vede quello che recentemente sta succedendo, proverà a spingere i miei nuovi video, i miei nuovi contenuti, verso quel tipo di audience. Audience che in realtà non è per niente interessato ai miei contenuti, e quindi fallirà. L'algoritmo si renderà conto che i miei video non sono particolarmente interessanti laddove crede che il mio pubblico potrebbe essere interessato donna sopra i 54 anni. E quindi i miei video muoiono. Semplicemente. Uno sforzo inutile fatto per niente. Perché questa cosa succede? Perché sono stato sabotato. Che cosa? Ah, Erivor, che cosa stai dicendo? Sì, sono stato sabotato. Basta semplicemente in un breve periodo di tempo che tre, quattro malviventi pezzi di merda e schifose entità umanoidi che vogliono cancellare la presenza altrui. Gente che vuole cancellare gli altri che lo dichiara apertamente haters. Basta che tre, quattro imbecilli di questo tipo aprono una playlist anzi creano dei canali farlocchi tre, quattro canali farlocchi con il dato demografico di donna anziana o donna grande d'età e manda una playlist qualsiasi in loop per tre, quattro ore in sottofondo mentre fanno altro nel loro computer dove che stanno su internet e questo succede ma basterebbe anche una persona che ha un laptop un telefono e un tablet tre di questi di questi account donna con più di 54 anni di età mettono in loop una playlist qualsiasi certo fanno views sul canale ma fanno views deviando l'algoritmo verso una anagrafica che è completamente sbagliata quindi questo si chiama proprio sabotare il canale è già successo diversi mesi fa avevo contattato l'assistenza anche quella volta mi è stato detto beh sì è un'anomalia non sappiamo come spiegare non so che cosa hanno fatto era stata forse sistemata o comunque il mio impegno è sempre molto grande all'interno del mio canale mi impegno tanto e quindi credo che comunque i video prima o poi ritornano nella normalità ho anche fatto un investimento economico quella volta per pagare youtube per promuovere i miei contenuti uno o due contenuti non ricordo bene quali fossero in realtà credo quello sulle string la teoria delle string beh comunque mettendo i valori normali demografici e quindi mi ha aiutato però io non è che posso stare dietro a pagare per farmi pubblicità del canale per ripristinare i dati anagrafici perché ci sono dei pezzi di merda che si divertono a distruggere il lavoro altrui e non è possibile ma non è possibile cioè non è possibile io un paio di idee ce le ho ovviamente ce le ho ma non posso essere sicuro non posso fare relazioni non posso accusare gente a buffo però so che ci sono degli odiatori che vogliono che il tuo canale sparisca e cosa migliore non può essere che alterare i dati demografici di un canale semplicemente se è un canale piccolo io mi ricordo che Entropy for Life ha avuto questo problema diversi mesi fa perché ci sono degli odiatori che in quel caso non mi ricordo credo si parlasse della pandemia o cose che erano successe quindi lo volevano boicottare ecco boicottare qualcuno facendo una playlist con account con dati demografici sballati perché voi ve li immaginate cioè non è possibile che cambia il mio pubblico così da un momento all'altro e diventano solo donne e l'algoritmo facendo io nuovi video non mi spinge i video i contenuti che faccio nel giusto mood nel flow corretto dell'audience che potrebbe essere interessato a vedere i miei contenuti e quindi ripeto se l'algoritmo percepisce che il mio canale è visto da donne sopra i 55 anni di età proverà i nuovi contenuti a spingerlo verso quelle quelle utenti quelle utenti si troveranno il suggerimento della copertina tra i loro feed sanno che non sono interessate non guarderanno quindi il mio canale diventa un totale disastro e fallimento con un danno molto molto importante perché sta succedendo questo? io immagino che siccome siamo quasi il ridosso della serie farmi un danno in maniera proattiva possa in qualche modo far godere queste persone che vorrebbero forse una maggiore vorrebbero avere una maggiore attenzione io non lo so io non lo so non mi sto riferendo direttamente a nessuno perché non posso saperlo non ne posso avere la diretta dimostrazione non so chi sia chi siano per cui per cercare di aiutarmi e vi prego se vi va di farlo se mi volete bene se avete avuto l'impressione che io sia uno youtuber onesto che crea dei contenuti carini originali che meriterebbe quantomeno ecco che meriterebbe di continuare la sua attività su youtube perché io ve lo dico così non si può andare avanti c'è uno sforzo incredibile per realizzare contenuti di produzione preproduzione post produzione è una cosa pazzesca fare i contenuti almeno come li faccio io non come li fanno altri che startano la live a rivederci e grazie no io ci metto un po' più di impegno certo faccio anche le live però voglio dire se vi va di aiutarmi in descrizione di questo video che state vedendo ho messo una playlist di video che potreste azionare e vederli in loop cioè nel senso azionare la playlist e vedere almeno 3-4 video di quelli che ho inserito lì per ripristinare il normale audience e i dati demografici normali del mio canale se siete degli utenti del mio canale degli iscritti del mio canale se anche siete per la prima volta qui e pensate che questa è un'ingiustizia incredibile fatta da gente fascista e volete aiutarmi grazie quindi cliccate in descrizione c'è la playlist azionate col vostro account normale non importa quanti anni avete non importa se siete uomini o donne non importa niente di niente se siete donne seguite questa cosa che sto dicendo cioè è importante io non voglio perdere nessuno però voglio che i miei dati rispecchiano quelli che è il mio audience in questo modo generando molte views soprattutto in un periodo di tempo ristretto nell'arco di due tre giorni si potrebbe fare in modo che l'algoritmo capisca chi è realmente il mio vero audience quindi se vi va se vi voglio aiutarmi vi prego fatelo io vi ringrazio tantissimo per questo aiuto perché sinceramente così non ne vale la pena obiettivamente non so cioè non ne vale la pena ore e ore e ore buttate nel cesto perché ci sono persone che odiano sabotatori che si divertono ad essere dei pezzi di merda che ci sono Grazie a tutti.